Ciao a tutti ragazzacci, io sono Danielino77, l'abbiamo detto per dei mesi, forse per degli anni, che sarebbe successo, ed è successo. Le usa e getta sono diventate una moda che sta finendo, o è già finita. Danielino77 E insomma rimbalzano notizie qua e là di cali di fatturati sia dei produttori, sia degli shop che li distribuiscono, ma anche ovviamente delle tabaccherie, perché quel grande mercato che, e sottolineo purtroppo, aveva affondato le sue radici nell'acquisto da parte di minorenni, così come ovviamente e storicamente è sempre stato anche per le sigarette tradizionali, è diventato nullo o quasi, semplicemente perché le usa e getta, nate con scopi diversi ma diventate ai noi una pura moda, si sono ritrovate ad affrontare quello che altri tipi di prodotti hanno affrontato nel tempo, e cioè la moda è finita. Per chi come me ha un passato di 14 anni di svapo, di YouTube e di questo mercato, sa perfettamente che abbiamo attraversato ere in cui prima il bottom feeder, poi i tubi meccanici, poi lo svapo polmonare, insomma un po' tutto ha avuto il suo momento di clou, di gloria, per poi una volta passato l'hype e una volta passata la moda, non dico finire nel dimenticatoio, ma standardizzarsi a un mercato normale, fatto semplicemente da parte di coloro che quei prodotti non li usano per moda, ma per i loro motivi. Con le usa e getta è successo più o meno la stessa cosa, ma con una differenza. Il boom è stato galattico, mondiale, ma noi ovviamente guardiamo l'Italia, ed è stato un boom che ha alzato sia per i negozi, sia per i produttori, i fatturati in modo incredibile. Ovviamente a questo mercato si sono rivolti anche gli adulti, ma come sempre succede nella moda, nella musica, in tutto, sono stati i giovani che ne hanno determinato la fortuna, anche se una fortuna momentanea. Adesso vuoi per la forte dipendenza che danno i sali di nicotina, vuoi per un po' una moda che si è raffreddata e passata, vuoi per il grande rimbalzo che si è fatto di notizie riguardanti le usa e getta, e su cui ovviamente gli sciacalli su ogni social network hanno mangiato a più non posso, ecco adesso quando si parla di usa e getta o addirittura le si nominano come le si nominavano prima, cioè le PAF, l'argomento interessa relativamente, anzi forse non interessa neanche più a nessuno. E noi ovviamente che veniamo da un mondo fatto di uno svapo differente, per alcuni versi possiamo anche essere contenti che si ritorni tra molte virgolette ad una sorta di normalità. Chiaramente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, anche se io già lo so cosa ne pensate al riguardo, perché online tantissimi di voi hanno sempre parlato male di questo genere di prodotti, salvo poi alcuni utilizzarli anche se continuavano a parlarne male, ma comunque il trend è sempre stato di puntare il dito contro le use e getta, e mai approvarle ognuno per le proprie motivazioni. Io personalmente non le ho mai utilizzate, se non qualche sfizio senza nicotina, perché ho fatto dei test proprio all'inizio e ho avuto sempre dei riscontri negativi sul mio fisico, per quanto riguarda l'utilizzo dei sali di nicotina. Ho sempre utilizzato liquidi normali e così continuerò a fare, anche perché chi viene dal passato tende anche ad essere un po' conservatore. E insomma, una moda che finisce sarà l'antefatto di un'altra che arriva? Vedremo, perché tanto i cinesi sono sempre al lavoro dietro le quinte, e la moda solitamente fa questa geolocalizzazione. Parte dalla Cina, poi arriva negli Stati Uniti, piano piano si diffonde in Europa e poi arriva in Italia. Fatto questo breve ragionamento in cui per la realtà volevo semplicemente coinvolgervi per ascoltare la vostra opinione, io spero che abbiate passato una buona estate che quasi volge al termine e vi do qualche novità che mi riguarda. Prima di tutto, molti lo sanno perché già è fortunatissimo, è uscito il D77 Crime, che non è nient'altro che l'alter ego, l'altra faccia di Prime. Ricomincerò a fare video su YouTube diffondendo, come al solito, la tematica che voi mi avete sempre visto diffondere, anche perché ho in arrivo tre o quattro prodotti, e forse un paio anche interessanti, ma dopo l'assemblaggio del mio nuovo PC è partita la mia avventura col gaming, perché in solitario ho finito GTA V, ho finito Fallen Order di Star Wars, ma ho cominciato online su Twitch, quel bastissimo mondo, che si chiama Red Dead Redemption 2. Ovviamente non è l'unico gioco che porterò, e non farò solo giochi, ma continuerò a fare le mie dirette per diffondere innanzitutto quello che penso, commentare quello che succede, e parlare di quello di cui vi devo parlare, ma piano piano entrerò anche nel mondo di GTA Roleplay, perché nell'attesa che arrivi GTA 6, sono entrato in un server dove hanno creato, ovviamente virtualmente all'interno del gioco, il mio negozio di svapo. In questo negozio interpreterò un personaggio, che sarei sempre io, ma con delle peculiarità. E per spiegarvelo ho realizzato un breve video, eccolo. Ciao a tutti ragazzacci, oggi vi porto nel mio nuovissimo negozio, il mio vape shop qui a Malatown, una città fondamentalmente fatta di gente onesta, ma anche di criminalità, ma con molte attività legali, come la mia ad esempio, come questa. Ovviamente qui troverete consigli, tanta scelta, e vi sapremo aiutare con competenza e professionalità. E poi tra l'altro c'è anche il parcheggio. Che ne dite, andiamo a dare uno sguardo all'interno? Lo store è curato, pronto per ospitare bella gente come voi, ma attenzione, sarà anche protetto. Quindi non fatevi venire in mente azioni illegali, perché Malatown è protetta dalla prontezza del nostro corpo di polizia. Nel corso del tempo vedrete che sapremo accontentare tutte le vostre richieste, forse anche le più strane. Così come, io ve lo devo dire, strane potrebbero essere alcune situazioni che ovviamente scoprirete solo qui, nel Vape Around di Malatown. e invece vi e poi e la ... E allora ragazzacci inizia una nuova avventura in cui gestirò questo fantastico store ma probabilmente mi vedrete anche in altre vesti perché ahimè dopo un burrascoso passato ho scoperto una patologia clinica chiamata disturbo dissociativo della personalità di cui spesso non mi rendo proprio conto e che purtroppo mi porterà come dire a non essere sempre me stesso. Vi aspetto in tanti e ovviamente trovate Malatown su Discord e tra i server di 5M su GTA Roleplay. E insomma vi aspetto anche su Twitch in tanti perché ricomincerà il podcast che faccio col santone dello svapo. Aggiornerò sulle notizie sia sulla legge insieme a Ivan Zedda sia su tante altre novità. Con il tempo condividerò anche GTA 5 Roleplay. Proseguirò finché ne avrò voglia la mia avventura con Red Dead Redemption 2 e ogni tanto vedrete anche qualche nuovo ospite con cui si discuterà di tematiche particolari. Ovviamente se qualcuno avesse anche dei suggerimenti di giochi interessanti da condividere su Twitch fatemelo sapere nei commenti. Per la cronaca io non amo molto il fantasy, amo molto il realismo ve lo dico. E invece per tutti gli altri riguardo le useggetta o riguardo tutto il resto ci leggiamo qui sotto. Per adesso io vi ridò il benvenuto dopo la pausa estiva sul mio canale YouTube. E come sempre, come al solito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!